Sì, sì, vai, vai, non funziona, non funziona, non ha fatto il suono, sì, esatto. Buon ciao a tutti, buon inizio di settimana dalla vostra amichevole Nanno della rete, dalla vostra fumetteria di fiducia a tradi e con il ritorno del nostro amico cavalletto. Salve, sei stato molto richiesto, sono tornato, giuro, molto richiesto, sì, il cavalletto amico. Ma su internet ho? Soprattutto da vivo, non lo so, da vivo un sacco. Che figo, grazie. Mancava il cavalletto, mancava il cavalletto. Tutto bene il cavalletto? Eh sì, purtroppo cambi d'identità, se la maschera, leva la maschera e tira la maschera. Quella non leva la forma e metti la maschera. E' la cera. Comunque è la cera, sì. Comunque mancava, secondo me mancava molto quelli i discorsi a cazzeggio. Oh, raga, che voglio dire, siamo in zona gialla, però diciamo la zona gialla interessa solo gli spostamenti e chi ha gli posti all'aperto, cosa che noi non abbiamo, perciò... Cioè, in teoria ce l'abbiamo pure. Sì. Però è il frattrofezio che era una persona, quindi è un po' un po' là. E poi devi fare tutto il percorso per arrivare, purtroppo, si deve mettere in vila. Dovevo fare con i biglietti fuori là. Per il ticket. Mettiamo Giuseppe con la macchina del caffè. Bellissimo. Perfetto. Prendi il caffè e poi devi fare partita. Prendiamo quello lì con le creppe. Quello fuori. Quello con il canello con le creppe. E' geniale. Comunque ci possiamo organizzare. Fateci sapere nei commenti. Lasciato stare questo, che voglio dire... Ah, ovvero, potete spostarvi. Anche senza l'autocertificazione, potete venire in negozio da tutta la Puglia. Ovviamente, con le regioni che sono in zona gianna. Io odio Pino. Perché? Che ha fatto le modifiche al telefono. Si vedono in vibrazione. Sì, si vedono in... Io lo sto guardando. Necita per vedere la qualità. Oggi sarà uno sbusting tutto fanco poppo. Tanne, vabbè, le bustine protettive che mancavano. Le fitte per meggi con poppo. Amicina. Però principalmente fanco. Si. Ma principalmente. Quasi il 99%. Si. In tutto fondo c'è l'amico Caparezzo. Rezza Kappa. Partiamo da quelli... Da quelli al contrario. Si, che se non si vede. L'ho visto. Boom. Winter Soldier. Ho visto visto la serie. Non ancora. Non ce l'ho. Disney Plus. Un'email alla volta posso fare. Mi dissocio. Poi Super Saiyan. Figo con Laura. Che c'è? Ah, quindi non è andata via. No. Megatron. Dei Transformer. Che odio. Che figo. Questo è figo. Dead Man. È qualcosa di Rocco. Non lo conosco, però mi piaceva. Mi incuteva un po'. Sì, sono tipo quello Marshmallow, i DJ, quelli strani. Ah, perché hai. Figo. Quello è ritornato come è bello andare in giro con le Alice. Con la Vespa. Gara. Però questo non è la specie edition. È uguale. Però speciale edition. Non è metallizzato. Ah, ok. Eh, non so, va di. Poi, un cattivissimo Doctor Strange venomizzato. Harry Potter con la mappa del malandino. Figa. Ele, eccolo qui, Scarlett. Ele, che mi tratta sempre male, quella Ele. Poi abbiamo... Mi è venuta in mente una scena di che cozzaloni, in questo caso. Era meglio non dire, no, la dico dove in privato. No, questo mi invece mi ha fatto venire in mente, come fa la canzone? De Maschera. Davide, dicelo. Che figo. Sì, guarda qua tutta la parte che ipnotizza la polizia. Sì, tutti a ballare. Eh, no, non viene. Che figo. Poi qua abbiamo la Fenice. La Faunz. Di Harry Potter. Aspetta. Yes. Che cattività. Il barista. Il barista dentro. Bello. E questo era quello che voleva... Non so, sei tedesco. Non so, un qualcosa di norvegese. Sì, è un nordico. Nord, sì, esatto. Quello invece è romano. Quello è romano. Il Cesare. Sì. Il senatore. Oh, che figo. Che figo. Che figo. Che figo, con gli occhi rossi, cattivissimo. Figo, il trailer che hanno fatto del film. Poi, Charlie Dixon di Walking Dead. Overhaul. Figo di... Mairo e pure Shigaraki. Tomura Shigaraki. Poi, un maestro morale adesso. Spider-Man. Viola. Questo è Harry Dunn. Che si misce a... Come si chiama? Agli Odd Christmas di Scemo più Scemo. Spettacolo... Bello è il nome inglese, non lo sapevo. Dumb and Dumber. Sì. Eppure io all'inizio... Che figo. Io ho capito quando... Perché c'era quello del furgone. Quando hai detto quella poca di cane, hai detto no, è impossibile. Bello, Tiger Woods. Allora, Tiger Woods è il suo marchio. Che è? È diventato una celebrità. Cioè, nel senso... No, quello l'hai già. Però è diventato bellissimo. E' incazzadissimo. E' incazzadissimo. In dubbio c'è copia. E poi concludiamo con... Mairo, Kurogini e... Kirishima. Ok. C'è un po' di... Fango in questo video. Un po' di video in questi fango. Grazie mille a tutti per la visione. Ci sono delle patatine nel mio sacchetto ad aria. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per contattarci. Anche se quelli di... Diciamo del cartaceo... Eh... Siamo bloccati. Sono in negozio. Però... Contattateci. Per quanto riguarda le informazioni... Noi siamo a vostra disposizione. Grazie mille per la visione. Qua a tutto colore. Alla prossima.